Altro sangue sulle strade delle Marche, un'altra tragedia che si è consumata a Fano, dove Alberto Fiorani, ingegnere di 51 anni e padre di due figli, ha perso la vita nella notte all'ospedale di Torrette, dopo un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale adriatica nei pressi della zona Gimarra. Fiorani viaggiava verso Fano in sella alla sua moto Ducati, con il figlio diciottenne seduto sul sellino posteriore. L'incidente sarebbe stato provocato dall'improvvisa svolta a sinistra di una Fiat Panda che procedeva davanti a Fiorani, ma la dinamica è tuttora in fase di accertamento. Il centauro non ha avuto il tempo di frenare andando a schiantarsi contro la portiera laterale sinistra dell'auto. A seguito del violento impatto, sia Fiorani che suo figlio sono stati sbalzati sull'asfalto. I soccorsi sono giunti tempestivamente e li hanno trasportati entrambi all'ospedale di Torrette. Il figlio diciottenne ha riportato ferite, ha una prognosi di 40 giorni, ma non è in pericolo di vita. Purtroppo il padre non è riuscito a superare i gravi traumi e si è spento nella notte poche ore dopo il ricovero. Anche il conducente della Panda, un mitottenne di Fano, è stato ricoverato sotto shock in ospedale dopo l'incidente. Le indagini sullo schianto sono state affidate alla polizia locale.